... Avevano destato un grande allarme sociale a Fano per i furti commessi in tutto il periodo estivo, ma la polizia è riuscita a fermarli. Sono stati arrestati a Rimini un uomo e una donna di 36 e 34 anni provenienti dalla Romagna, ma con base operativa nella nostra città. Le indagini svolte dagli agenti del commissariato, diretti da Stefano Seretti, sono partite dai numerosi furti di biciclette all'interno di esercizi commerciali. L'attenzione dei poliziotti, grazie anche ai pedinamenti e alle immagini delle telecamere, si è concentrata su una donna con precedenti penali e con problemi di tossicodipendenza, ospite in una comunità fanese insieme alla figlia di 6 anni a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria minorile. La donna, che era incinta, aveva iniziato prima a mettere a segno dei colpi all'interno della struttura che la accoglieva, per poi allargare il campo d'azione nelle farmacie, nei negozi e in un'abitazione privata. Le zone interessate sono quelle del centro storico e del lungomare. Ad essere presi di mira, invece, il denaro, oggetti vari come occhiali e in particolare le biciclette elettriche, anche di un valore superiore ai 1000 euro. I poliziotti hanno accertato anche il ruolo del compagno, che con frequenza quasi quotidiana, la raggiungeva da Rimini in treno e partecipava attivamente alla commissione dei furti, nonché al trasporto della merce trafugata, sembra a bordo di treni, verso la vicina Romagna, dove veniva rivenduta. Il modus operandi della coppia si caratterizzava dalla preliminare attività della 34enne, che nonostante si trovasse nella fase terminale della gravidanza, effettuava continui sopralluoghi spostandosi in compagnia della figlia lungo le vie cittadine in sella a una bici rubata. Individuati gli obiettivi, attendeva l'arrivo del compagno e spesso portando con loro la minore anche per destare meno sospetti, si introducevano nei negozi o colpivano, utilizzando tronchesi per rompere le catene utilizzate dai titolari delle bici elettriche. La coppia è ritenuta responsabile di almeno 20 episodi, alcuni dei quali commessi dopo il parto avvenuto all'ospedale Santa Croce. Diversi veicoli a due ruote però sono stati recuperati a Fano dalla polizia che li ha restituiti ai legittimi proprietari. I malviventi invece sono stati arrestati tre giorni fa, in collaborazione con l'acquistura di Rimini, e portati in carcere.